Ciao a tutti, eccoci qua con un altro speciale calciomercato, questa volta solo di Serie B. Grazie, grazie a tutti per il supporto che state dando a questi contenuti. Mi raccomando, tanti like, non vi costano veramente nulla un like, ci mettete 5 secondi, se poi ne volete perdere 60, mettete alcun commento, io vi ringrazio veramente di cuore. Ovviamente, se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete un piacere, quindi commentate notizie di tante squadre, Sampdoria, Palermo, Cremonese, Carrarese e tante, tante altre. Mettetevi comodi, Sassuolo, eccetera, eccetera, mettetevi comodi che le dico tutte. Cosa c'è da dire? Grazie, grazie perché i più attenti si sono accorti che rispetto a calciomercatobici dell'anno scorso e dell'anno prima non ho gli occhiali da sole. Si chiamava calciomercatobici perché appunto portavo gli occhiali da sole e facevo questa tematica un po' estiva. Quest'anno, vi giuro, mi è proprio passato di mente, se non me lo ricordate voi neanche mi ricordavo che la facevo così. Purtroppo non ho gli occhiali da sole, se no oggi facevamo un remember di quel calciomercatobici dell'anno scorso e dell'anno prima. Andiamo, 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 partiamo subito forte con Sampdoria e Frosinone che sono interessate a Nikola Sekulov, attaccante della Juve. Ragazzi, questo è veramente forte, fidatevi di Monta, questo è veramente forte. giovane e forte, attaccante della Juventus Next Gen che però lo vedo già progettato e proiettato, proiettato, non progettato, verso la prima squadra qualora non dovesse andare via. Ma magari un prestito in Serie B gli farebbe veramente, veramente bene. Cacchacchio, la Sampdoria li vuole tutti lei, non lo so. Dopo tuttino, ragazzi, andate a vedere anche il video di A e B che ho fatto l'altro giorno perché parlo molto di Serie B anche lì. ferme sull'interesse di Sekulov dalla Juve al Palermo arriva da Morgan De Santix. Il DS appunto del Palermo che dice che gli interessa anche uno tra Barbieri e Asa. Mentre l'Atalanta Andre 23 è interessata a un loro calciatore, non specifica qual. Tra l'altro dichiara incedibile Brunori. Staremo a vedere perché De Sant'è una piota che dichiara incedibile qualcuno e poi magicamente lo vende. Spero di no per i tifosi del Palermo. Carrarese, interessa Mattia Destro, profilo di esperienza svincolato dall'Empoli. Io, ragazzi, non dico nulla perché sennò mi chiudono il canale. Per me Destro è finito già da 5-6 anni. Detto questo, ecco l'ho detto, vedete, no vabbè, non dico niente di cattivo. Il mio parere personale poi farà 20 gol e mi zettirà. Poi, appunto, al Palermo interessa Ceresoli dell'Atalanta Andre 23. Quindi si lavora uno scambio perché appunto pare che interessi l'Atalanta Andre 23 a qualcuno del Palermo che io però non trovo da nessuna parte. Spero venga fuori nei miei appunti che magari l'ho scritto dopo e non mi ricordo. Al Pisa interessa il Parma, primi contatti tra le due squadre. Quindi staremo a vedere, interessa Partipilo del Parma, non interessa il Parma. Quindi primi contatti tra le due società. Quindi Pisa, appunto, primi contatti con il Parma per Partipilo, dice Di Marzio. Poi la Juve Stabia pare veramente vicinissima a uno scambio con la SPAL. Maestro arriverà appunto a Castellamare, mentre Mignanelli andrà a Ferrara. Poi ufficiale Duccio degli Innocenti è un nuovo giocatore dello Spezia. Arriva in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto dall'Empoli. Poi Catanzaro e Cosenza sono su palestra. Terzino, 19enne dell'Atalanta, che abbiamo visto anche in amichevole, se non erro, con la Z è entrato. Tuttavia Gasperini lo starebbe valutando qualora in chiave di seconda linea, eccetera, da tenere. Vedremo, vedremo appunto se resterà con noi palestra oppure andrà al Catanzaro o al Cosenza, quindi in Calabria. Poi Filippo Falco si sta allenando da due giorni con la Cararese. Decisione su tesserarlo, poi spetterà all'allenatore Calabro, appunto l'allenatore della squadra toscana. Vedremo se Falco appunto andrà alla Cararese. Poi, dopo vi vorrei fare un punto su tutti gli acquisti ufficiali finora della Serie B. Vediamo se riesco a farlo, che il video non dura troppo, vi prometto che lo faccio a fine video. Quindi rimanete fino alla fine, lasciate like, commento, iscrizione e campanellina, così non perdete nessun mio video. Poi, ufficiale, Angori, o Angori, non lo so, non c'è l'accento. È un nuovo giocatore del Pisa, difensore arriva a titolo definitivo dall'Empoli. Invece, sì, no, non c'è l'accento. Ditemi se ho detto sbagliato, fatemi sapere. Quindi acquisto per il Pisa. Poi, anche Catanzaro avrebbe messo nel mirino Cerasoli dell'Atalanta Under 23, quindi oltre al Palermo anche Catanzaro. Stulac è un nuovo giocatore della Reggiana, arriva in prestito secco biennale dal Palermo. L'avevo detto nell'altro video che questa era un'operazione calda-calda, quindi la Reggiana appunto si assicura a Stulac che a me non dispiace affatto. Per la Reggiana per me è un buon colpo. Poi, è fatta appunto per lo scambio tra Salernitana e Cremonese, Bonazzoli passa ai Grigiorossi e Ghiglione passa ai Granata. Ottimo colpo Bonazzoli secondo me per la Salernitana. Ghiglione in fase calante, una volta mi piaceva davvero tanto. Staremo a vedere cosa farà a Salerno appunto. Quindi scambio tra Salernitana e Cremonese, Bonazzoli a Cremona e Ghiglione appunto a Salerno. Poi al Sassuolo interessa l'ovato della Salernitana. Cesena in Catania punta con decisione Francesco De Rosa e sul centrocampista in uscita del club romagnolo c'è anche l'interesse del pescato. Quindi vi ho detto anche una notizia, oltre che del Cesena, anche di Serie C perché appunto potrebbe andare in C il giocatore. Nuovo acquisto per il Frosinone. Tias Begic, attaccante che arriva in prestito secco dal Parma. Poi Pontisso ha rinnovato con il Catanzaro fino al 2026 con opzione per un altro anno. Erlich a proda al Bologna per 7 milioni di euro. Cioè Erlich del Sassuolo va al Bologna per 7 milioni di euro. Si era vociferato di un interesse anche dell'Atalanta per il giocatore, ma a quanto pare è andato a Bologna. E io ve lo dico, sono contento così. Allora, come promesso vi faccio un recap totale degli acquisti finora ufficiali di Serie B. Andiamo in ordine. Il Bari ha preso Favasuli, Oberantin, Sgarbi, Manzari, Oliveri, Lasagna, Novakovic e Radunovic. Ovviamente qui ci sono anche prestiti e tutto quanto, quindi magari anche riscatti, eccetera. Non sono tutti solo acquisti. Il Brescia ha preso Verrett, Buajar e Corrado. La Carrarese, Bleve, Palermo, Oliana, Scheffer, Motolese, Zuelli, Cherubini e Cerri. Cerri tra l'altro è una cosa delle ultime ore. Catanzaro ha colparato Volpe, solo acquisti, non vi dico cessioni, acquisti o prestiti. Volpe, Bonini, Compagnon, Pigliacelli, Cuzzupias, Morleo, Dini, Pittarello, Pagano e Turricchia. Il Cesena, Mangraviti, Calò, Curto, Bastoni, Cesai e Antonucci. Cittadella, Masciangelo, Tronchin, D'Alessio, De Zogus, Casolari e Rabi. Scusate se li leggo tutti, ma alcuni hanno cognomi difficili e faccio anche fatica a leggerli. Cosenza, Juan, Cervo, Risto, Baldi, Dallemura, Begheldo, Caporale, Charles, Fumagalli, Vettorel, Mazzocchi e Curfalidis. Mamma mia Cosenza, ne ha presi un botto. Non come il Como in Serie A, ma quasi. Cremonese, Van de Putte, Fulignati, Antov, De Luca e Moretti. La Cremonese, attenzione alla Cremonese. Sanno andando alla Cremonese per ora sono le due squadre che mi piacciono di più in Serie B. Ma ci sarà tempo da qui a fine mercato di cambiare idea e dirne altre o comunque farvi la mia prediction. Staremo a vedere. Frosinone, Cittadini, Ambrosino, Di Stefano, Sene e Begic. Juve Stabia, Tonin, Floriani, Rocchetti, Didio, Folino, Pierobon, Di Marco, Dariva, Varnier, Mantosevic, Artistico e Demirovic. Mantova, Artioli, Solini, Bruocco, Botti, Cella, Mancuso, Bragantini e Aramu. Modena, Caldara, Sassi, Alberti, Idrissi, Nyang, Bageria, Mendes e Botteghini. In alcune non ho messo la virgole. Temo di dire uno che ha due robe e in realtà è uno solo. Vabbè, lascia stare. Palermo, spero che appreziate la sudata che mi sto facendo a dirveli tutti. Gomis, Nicolau, Henry, Pierozzi e Blin. Pisa, Yevzenak. L'ho scritto anche male io. Semper e Angori. Quello che vi dicevo appunto prima. Reggiana, Meroni, Maggio, Motta, Urso, Brecalo, Sersanti, Naonou e Stulac. Madonna, io con le pronunce faccio ridere e voi mi fate dei meme incredibili. Io lo so. Sampdoria, Coda, Venuti, Acchisammiro, Romagnoli, Vulichic, Ioannu, Ghidotti, Belemo e Tutino. No, Sassuolo per ora solo, Calligara e Odental. Poi Sassuolo staremo a vedere se venderà i prezzi pregiati come Pinamonti e Berardi. Sennò veramente anche Sassuolo è una delle candidate a salire. Spezia, Aurelio, Soleri, Francesco Pio Esposito, Sar e degli Innocenti. E su Tirol chiude con Pietrangeli, Cepitelli, Crespi, Martini e Zedatka. Ragazzi, io mi auguro che vi sia piaciuto questo riassunto finale, questo video di mercato. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste operazioni di mercato, di serie B, nei commenti. Vi aspetto al prossimo video, il vostro monta. E se non c'è la vostra squadra in questo video, andate a vedere quello prima, perché probabilmente c'è in quello lì. Vi abbraccio, mi raccomando. Scrivete al canale, attivate la campanella, lasciate tantissimi like se volete un altro video domani, dopo domani, di queste cose qui, anche se nei weekend le notizie calciomercato non sono tante, perché eravate bravissimi, lasciate 120 like da quando non ve li chiedo più e ne lasciate 60-80. Quindi dai, su, non vi costa nulla, un likeino, non vi slogate il pollicino. Buon weekend, vi abbraccio di cuore, a presto, vostro monta. Ciao, buona serata. Ciao, ciao.